E' a quota 37 il totale dei pazienti positivi al Covid-19 e intanto per l'ultimo aggiornamento dell'ASP2 di Caltanissetta un paziente proveniente da un'altra provincia è stato ricoverato al reparto di malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia era un paziente sintomatico e invece una paziente di Caltanissetta è stata dichiarata guarita da Covid-19. Intanto vi sono dei pazienti ricoverati e dei pazienti in quarantena domiciliare dei pazienti in quarantena domiciliare in tutto 31, 24 sono di Gela poi un paziente di Butera, 3 di Caltanissetta, 1 di Mazzarino, 1 di Riesi e 1 di Serra di Falco e la donna incinta che ha partorito a Catania appunto positiva al Covid-19 è ancora ricoverata appunto a Catania dunque conta come paziente nissena ricoverata fuori provincia.